Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di barbabietole e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono barbabietola precotta, pecorino grattugiato, parmigiano grattugiato, mandorle, olio evo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle e il basilico ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il parmigiano, il pecorino ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 10. Aggiungere la barbabietola ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 9. Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Il pesto è pronto, trasferire in barattoli di vetro. Pesto di barbabietole e mandorle, ideale per farcire i crostini o condire la pasta. Si conserva in frigo per 4-5 giorni, è possibile congelare. Grazie e alla prossima ricetta!